Nella società pre-pornografica, ricordiamo che in Italia la pornografia viene legalizzata nel 1977, quindi nella società pre-pornografica osservare due amanti nell'intimità è una trasgressione gratuita e a portata di mano, oltre che in sé pienamente legale e ricercata quasi ossessivamente da una non piccola parte della popolazione maschile. Così le coppiette appartate divengono target inconsapevole di morbose ma per lo più innocue attenzioni da parte di una spontanea e sfuggente comunità di spiatori abituali. Lo spettro della categoria include sia i battitori liberi che vere e proprie organizzazioni con un preciso codice etico e una propria cultura del territorio, affinata dal prolungato controllo notturno di aree isolate. Questo ovviamente non riesce funzionale alla sola pratica di spiare le coppiette, ma anche alla sicurezza di operare in territori fuori dal controllo immediato e sistematico delle autorità. Quindi non solo guardoni nascosti fra le frasche, ma anche bracconieri, rapinatori, trafficanti, ricettatori, sfruttatori, prostitute e prostituti, terroristi, latitanti, eccetera. Prendendola larga e generalizzata ovviamente. Numerose sono fin dagli anni 50 le aggressioni a coppiette diamanti appartate in campagna, sconcertante la rassegna stampa dei casi già dagli anni 60. La maggior parte delle aggressioni sono a scopo di rapina e o stupro. Diversi gli specialisti seriali in rapina a coppiette. Ci sono molte bande di rapinatori di coppiette e di stupratori di ragazze ovviamente delle coppiette.